Ciao a tutti ragazzi, sono 9 al 91. Allora, io voglio farvi vedere questa roba. Ok, vediamo cosa c'è. Ah, lui. C'è lui? Ho trovato lui, che è molto importante. Ho trovato lui, che carino lui. Praticamente ti dà solo un pazzino del cavolo. Lo sicuro direi, mi sa, ma è possibile. La scuola. Ok. Ok, è l'ultimo passo. No, come stai un po' che lo chiamo. A un prossimo video. Ciao. Ciao.